Saluta straordinaria del Consiglio regionale della Toscana. Si parla di sanità e in particolar modo del bilancio dopo due anni di spese incrementate a causa della pandemia. Arriviamo con un bilancio 2020 perfettamente in equilibrio, sottolinea l'assessore Simone Bezzini nella comunicazione in aula. Per il 2021 c'è da considerare che oltre alla pandemia sono riprese le attività ordinarie della sanità toscana. Quali le strade per far fronte alle risorse mancanti? Indicazioni operative alle aziende sanitarie per contenere la spesa e recuperare almeno 150 milioni. Variazioni al bilancio di previsione per 66 milioni, 70 milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione. Questa è in sintesi la manovra ipotizzata dalla Giunta regionale per recuperare l'equilibrio economico in sanità, senza al momento alcuna previsione di aumento delle tasse. Il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi da una parte abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione nella gestione delle risorse finanziarie, dall'altra la regione toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al Governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse le regioni riusciranno ad ottenere dal Governo. Io mi auguro una cifra consistente, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. Ampia la discussione che è scaturita dopo la comunicazione in aula. Per l'Italia Viva è stato giusto investire in questi anni in sanità, adesso un lavoro rigoroso per far quadrare i conti. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema. Bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al Governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Insoddisfatti, così il portavoce dell'opposizione al termine della comunicazione in aula, siamo preoccupati per i conti della nostra Regione. Non tutti i soldi che mancano arriveranno allo Stato, quindi sicuramente ci sarà un intervento da parte della Regione che chiaramente oggi non ci viene detto come, quale, perché, quando sarà fatto questo intervento di bilancio. Una situazione attuale in cui i cittadini per fare una visita devono attendere liste d'attesa lunghissime e molto spesso rinunciare e affidarsi a privati. Una situazione attuale che vede sindacati, dei medici, degli infermieri protestare, perché chiaramente anche sulla situazione dei dipendenti, degli operatori sanitari, dei medici, anche delle assunzioni, delle nuove assunzioni, non possiamo paragonarle ovviamente allo scorso anno, ma dobbiamo andare un po' più a ritroso e capire che cosa è successo negli ultimi 3-4 anni per capire quanta necessità di medici, nuovi medici, nuovi infermieri e nuovi operatori sanitari sono necessari nella nostra sanità toscana. Siamo stati noi a richiedere la comunicazione in aula, sottolinea la Lega, ma le risposte non sono arrivate. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che è realmente la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana in delle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale. Mi vengono in mente i ventilatori, i famosi ventilatori, ordinati e poi mai utilizzati, come mi vengono in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo, ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro, e quindi se è stato un investimento o se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri dati perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Non è solo colpa della pandemia, dice Fratelli d'Italia, se i conti in sanità in Regione Toscana non tornano. In realtà la Corte dei Conti nella propria relazione annuale aveva già avvisato che i conti non tornavano, scusate il bisiccio di parole, che non c'era programmazione in ambito sanitario, che i bilanci erano illeggibili. Addirittura il bilancio di previsione 2021 dell'ASDA Toscana Centro viene approvato dalla Giunta regionale soltanto ad agosto e con il parere contrario del collegio sindacale, che era stato pronunciato cinque mesi prima. Una cosa che dovrebbe far saltare in piedi sulla sedia. È vero invece che la sanità sconta una politicizzazione che va avanti da decenni, che ha avuto costi enormi. Insomma, anche se non verranno alzate le tasse, e noi ancora non ne siamo certi, purtroppo comunque verranno tagliati i servizi, è evidente per coprire questo buco, che è causato dalle scelte folli, dalle scelte mancate, dalle scelte politiche sbagliate di questi anni. Precisiamo, sottolinea Forza Italia, è stato giusto spendere questi soldi per contrastare la pandemia, ma adesso ci vuole chiarezza sui conti. Abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle AS dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa, Presidente Gianni, a questa giunta. Quando c'è bisogno di Forza Italia, Forza Italia c'è, sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia. Di risposta tardiva e incompleta parla anche il Movimento 5 Stelle. Non si riesce a capire come la giunta rimedierà allo squilibrio di bilancio. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPF, del bollo auto, e di taglia agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. Quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli chiamati razionalizzazioni che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Per il capogruppo del PD esce invece un quadro chiaro. La regione toscana è stata quella che ha garantito meglio i livelli di assistenza in questi anni di pandemia. Sulla lotta al Covid abbiamo operato bene e sul bilancio? Per quanto riguarda il 2021 ci sono invece delle risorse che sono state spese quantificabili in oltre 300 milioni per contrastare il Covid, che sono servite per allestire gli hub vaccinali, che sono servite per i ventilatori polmonari, che sono servite per quanto riguarda i tamponi che sono stati dati gratuitamente. Insomma, tutte misure assolutamente necessarie per salvare le vite. Per far fronte a questo c'è nella comunicazione anche un'ipotesi di rientro, che poggia per alcuni aspetti sulle risorse che fanno parte del bilancio, non della sanità, che però possono essere in questo caso eccezionalmente dirottate verso la sanità. Ci sono risorse dei fondi di sviluppo e coesione che fanno lo stesso percorso, ma c'è soprattutto una richiesta che è stata rivolta al Governo da tutte le regioni, perché le regioni che più che meno sono nelle condizioni di avere speso più soldi di quelli che avevano per poter contrastare il Covid, e qui aspettiamo che il Governo dia una risposta e dia una risposta positiva a 2 miliardi e mezzo che le regioni italiane hanno chiesto appunto come ristoro per quanto riguarda il Covid. A conclusione l'intervento del Governatore Eugenio Gianni, i dati sui vaccini, quelli sui contagi, mostrano come la Regione abbia bene operato in questo anno contro il Covid. Certo i costi sono aumentati, dice, ma è pronto il nostro piano per far fronte alla necessità di nuove risorse. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione, alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della Regione. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio tra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinati alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tramvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della Regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla Regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Anche oggi ho avuto un incontro con il Vice Ministro Costa, così come mi sento spesso con il Vice Ministro Sileri e soprattutto con il Ministro Speranza. Questo obiettivo di avere un rimborso Covid di 2 miliardi, che in Toscana significa 150 milioni, ecco con queste tre misure noi possiamo arrivare ad equilibrare e a coprire l'equilibrio strutturale di un bilancio. Presidente, lei esclude l'aumento delle tasse regionali? Allo Stato attuale, se torna il bilancio così come l'abbiamo presentato, sì. Se viene a mancare qualcuna di queste voci, è evidente che dovremo considerare anche altre strade. Oggi è una bella occasione perché presentiamo la mostra a mercato del tartufo dopo un anno di sospensione. Dopo l'anno di stop dovuto alla pandemia da Covid-19, a San Minato tornerà alla mostra del tartufo bianco giunta alla sua cinquantesima edizione. Le giornate dedicate a questa kermesse di respiro più che nazionale saranno gli ultimi tre fine settimana di novembre. Emozione per questa ritrovata partenza palpabile attraverso tutti i principali attori intervenuti, a partire dal Presidente della Regione Gianni e dal Presidente del Consiglio Mazzeo, passando tra gli altri dal Presidente di San Minato Promozione Gabbanini fino ad arrivare al primo cittadino Giglioli. Possiamo farla in sicurezza, questa è una gioia immensa perché solo così vedremo la luce in fondo al tunnel. Questo grazie alle vaccinazioni, grazie al Green Pass che naturalmente servirà per venire a San Minato. Ma sono veramente molto felice di essere qui oggi e di dire che rifacciamo la cinquantesima mostra a mercato del tartufo perché questo è un segno di speranza ma poi per San Minato rappresenta anche uno degli eventi attrattivi maggiori per il nostro territorio. L'appuntamento è per gli ultimi tre weekend del mese di novembre e l'inaugurazione è sabato 13. Siamo pronti con il programma enogastronomico, con gli stand, con gli espositori, commercianti, di tartufi, vignaioli, arti bianche e così via. E siamo pronti anche con un programma collaterale, importante, culturale, sociale, sportivo, declinato al femminile. Dunque la donna come protagonista di tante iniziative. Non era semplice, non era scontato che si svolgesse questa iniziativa ma lo si farà in sicurezza e si continuerà a lavorare. Nella direzione abbiamo sempre tracciato, sostenere ogni iniziativa che porta la Toscana nel mondo. E questa è un'iniziativa che fa conoscere una nostra eccellenza, il tartufo di San Minato. Un'eccellenza riconosciuta dovunque.